Allenatore di calcio femminile indagato per rapporti sessuali con un atleta di 13 anni, la denuncia da parte della madre. Alluvione tappa a Bologna per il commissario figliuolo, il punto su interventi e risorse. Obiettivo 100% di ristori, ma Bonaccini è scettico. 150 eventi in 40 giorni, Rimini presenta il capodanno più lungo del mondo, 550 mila euro il budget, buoni riscontri finora dagli alberghi. Lo sport fa bene anche al territorio, presentato al Grand Hotel uno studio sull'impatto dei grandi eventi sul turismo, presente anche il ministro a Bodi. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, un allenatore di calcio femminile di 43 anni della Riminese, è indagato per aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 13 anni che faceva parte della squadra da lui allenata. A seguito delle indagini condotte dai carabinieri coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, all'allenatore è stata notificata un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla minore emessa dal GIP Raffaella Ceccarelli. A presentare denuncia è stata la madre dopo che la figlia si era confidata con lo psicoterapeuta che l'aveva in cura. Al medico, la 13enne, aveva raccontato di avere una relazione sentimentale con l'allenatore, ma di aver avuto con lui anche un rapporto sessuale completo. Il 43enne, secondo quanto ricostruito, si sarebbe offerto di aiutare l'adolescente a risolvere alcune problematiche extracampo, diventando per lei un confidente. I due avrebbero trascorso da soli diverso tempo anche nell'abitazione dell'uomo ed è lì che si sarebbe consumato un vero e proprio rapporto sessuale. All'indagato è stato disposto il divieto assoluto di comunicare con la 13enne. Cambiamo argomento, torniamo a parlare di alluvione, una nuova tappa in regione per il commissario Figliuolo, chiamato ad aggiornare sugli interventi realizzati e su quelli in partenza. L'obiettivo resta quello del 100% dei ristori, ma il Presidente Bonaccini resta scettico. Il commissario per la ricostruzione post-alluvione Figliuolo è arrivato in mattinata a Bologna per relazionare l'Assemblea legislativa regionale sul lavoro fatto finora e sui prossimi step. Un lavoro complesso, ha spiegato, mettendo in fila le risorse messe in campo e gli interventi finanziati. Resta l'obiettivo di arrivare a ristorare il 100% dei danni, traguardo più volte ribadito dal governo e a cui punta il commissario, ma ancora molto lontano, secondo il Presidente della Regione, Bonaccini. Noi in questo momento abbiamo messo a terra quasi un miliardo e mezzo per la ricostruzione pubblica perché il primo pensiero è stato quello di mettere in sicurezza il territorio. Poi c'è la ricostruzione privata, quindi gli indennizi ai cittadini. In questo momento noi abbiamo una dotazione che è perimetrata a circa 640 milioni di euro per imprese e cittadini, ma dal primo gennaio con il credito di imposta ci saranno ulteriori 700 milioni. Chiaramente non abbiamo una stima perché stiamo aspettando che arrivino le prime domande per fare un'attività statistica e per elaborare dei dati. Ci sono nemmeno la metà delle risorse che servono per ricostruire tutto i prossimi tre anni per l'8 miliardi e mezzo. Inutile girarci intorno, ci fermiamo alla metà, un po' meno. Dopodiché, siccome continuano dalle parti del governo e da parte anche dei consiglieri di minoranza qui, le assicurazioni che tanto arriveranno i 100% dei rimborsi promessi, io mi auguro che così accada, di certo ad oggi quelle risorse non ci sono. Anzi, noi offriamo collaborazione massima al governo, però non ci sposteremo di un centimetro, questo lo sappiano i cittadini e le famiglie e le imprese, fino a che chi ha avuto danni non abbia il 100% dei danni rimborsati. Per un cinquantenne riminese è scattato il DACUR, che sarebbe il divieto di accesso alle aree urbane emesso dal questore. L'uomo si è recato in uno dei locali in zona Cantinette, in centro storico a Rimini, e ha iniziato a molestare alcuni clienti per poi minacciare e opporre resistenza nei confronti dei poliziotti e delle volanti intervenuti su segnalazione del titolare dell'attività. Il cinquantenne, quindi già sottoposto al divieto di accedere a manifestazioni sportive, non potrà recarsi nella zona delle Cantinette per un anno. Sempre in applicazione della medesima normativa, sono stati recentemente emessi due provvedimenti di divieto di accesso ad una nota discoteca riminese, nei confronti di una coppia di trentenni residenti nel Modenese, che era stata sorpresa a spacciare all'interno del locale. Cambiamo adesso argomento, volontariato, missione possibile. Questo è il titolo del convegno organizzato dal Centro di Servizi per il Volontariato Volontà Romagna per fare il punto sulle sfide del futuro e sul ruolo del volontariato. Si è svolto sabato a Cesena questo appuntamento. Alluvione, digitalizzazione, volontariato liquido. Sono solo alcuni dei temi che hanno influito negli ultimi anni su un cambio di prospettiva da cui emerge la necessità di fermarsi a riflettere per cogliere gli scenari futuri del volontariato romagnolo. Si è parlato di questo e non solo, sabato scorso a Cesena, all'incontro Volontariato Missione Possibile, che ha visto anche una Lectio Magistralis del professor Stefano Zamagni, a cui è seguito una tavola rotonda e poi un pomeriggio di confronto con cinque gruppi di lavoro dedicati ad alcuni degli obiettivi dell'Agenda 2030. Parlerò del ruolo dei centri di servizio per il volontariato davanti a un volontariato che cambia. Un volontariato che chiaramente vive all'interno dei territori, nelle comunità che stanno subendo, hanno subito delle profonde trasformazioni nel corso degli ultimi anni. Un volontariato che si sente anche la responsabilità di dare delle risposte adeguate ai bisogni nuovi ed emergenti delle persone, dell'ambiente. Un volontariato che a 360 gradi si occupa dei territori e delle persone che abitano quei territori. Sta cambiando molto, anche molto rapidamente. Vediamo che c'è una crescita impetuosa delle APS rispetto alle organizzazioni di volontariato. Vediamo che c'è sempre più una voglia di un volontariato meno strutturato e più che viene chiamato anche volontariato liquido, ma per questo non vuole dire che sia meno importante. Bisogna trovare nuove forze e nuove modalità per coinvolgere soprattutto i giovani dentro a un sistema di volontariato che li valorizzi ma che allo stesso tempo possa creare una formazione e un'idea di volontariato continuativo perché è di questo che oggi è sempre bene e c'è sempre più bisogno perché il bene va fatto bene. Il 7 ottobre era a Gerusalemme e purtroppo ancora padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, non è riuscito a far ritorno nella striscia alla sua comunità cattolica formata in tutto da 135 persone. I cattolici sono una piccolissima minoranza a Gaza ma sono ben voluti e le loro opere di carità, scuole, cliniche sanitarie, mobili aiutano migliaia di poveri. Grazie a Teleclub, un emettente del nostro circuito corallo, abbiamo raggiunto padre Gabriel che c'è dato una lettura della tragedia che sta avvenendo. Un peccato lo faccia che lo faccia è un peccato, un crimine lo faccia che lo faccia è un crimine, da una parte o dall'altra. E quindi quello che è stato fatto il 7 ottobre come quelle tante cose ingiuste precedentemente, una parte dell'altra il primo 7 ottobre, sono crimini, sono crimini. È quello che si stanno commettendo adesso pure. Quindi per troppo tempo sì sono state, mi pare, silenziate tante cose che per dire il vero noi vogliamo il bene di tutti, il bene dei palestinesi, di israeliani, dove possono veramente ciascuno vivere in pace, una pace salda quindi sulla giustizia, sulla riconciliazione, come diceva Giovanni Paolo II. Questi bombardamenti in maniera indiscriminata sulla popolazione dell'Estriscia, dove la più parte delle vittime sono in assoluto civili, persone anziane, donne e bambini. E quindi non recca nessun beneficio né alla società israeliana né alla società palestinese. E quello non vuol dire in nessuna maniera che uno giustifica o nega o diminuisce quello che è stato, che è successo il 7 ottobre. No. Però questa risposta così deve essere fermata. Continua a morire, i bambini. Che importano che siano musulmani, cristiani, ebrei, drusi o che pure in una famiglia che non abbia nessuna appartenenza religiosa? Sono esseri umani. Adesso cambiamo decisamente argomento su temi molto più leggeri. Rimini infatti ha presentato oggi il cartellone degli eventi per il Capodanno e le festività natalizie da Biagio Antonacci in Piazza Le Fellini ai concerti diffusi per il Centro Storico. Una presentazione, quella di quest'anno anticipata rispetto al passato, che sta già dando buoni riscontri in termini di prenotazioni alberghiere. Vediamo. 150 eventi in appena 40 giorni. Rimini relancia il Capodanno più lungo del mondo con tante conferme, qualche ritorno e alcune novità per un budget complessivo che si aggira sui 550 mila euro, luminarie escluse. Praticamente ripagato dai 600 mila euro di surplus dell'imposta di soggiorno 2023. Il clou sarà il ritorno del concertone di Piazzale Fellini, con Biagio Antonacci sul palco e i fuochi d'artificio alla mezzanotte sulla spiaggia. Ma il 31 offrirà un'ampia scelta anche in centro, in Piazza Cavour il concerto di Kelly Joyce e poi la coppia Guerini Lanfranchi di RDS. In Piazza Malatesta una sfida a suon di rock tra i DJ del Velvet e quelli del Satellite. E poi il jazz al Teatro Galli, arricchito da un suggestivo videomapping, la musica latinoamericana al Teatro degli Atti, il gruppo Nashville and Backbones alla Domus del Chirurgo, musica classica invece al Museo della Città. Tornerà con un doppio appuntamento anche lo spettacolare Incendio al Castello, gratuiti nella notte di Capodanno tutti i musei della città. Ma le feste di Natale 2023 porteranno anche il ritorno dei presepi di sabbia a Torre Pedrera e a Marina Centro, nell'ambito del villaggio natalizio sulla spiaggia libera che potrà contare anche sulla pista su ghiaccio. Proprio dalla spiaggia libera partirà poi la passeggiata sulla duna in riva al mare con luci e fotografie fino al bagno 63. Il 2024 si aprirà, come ormai tradizione da vent'anni, con l'opera lirica. Al Teatro Galli arriverà la Tosca col mattinè del primo gennaio e la doppia replica serale del 2 e 4 gennaio. A chiudere il cartellone di eventi, l'arrivo dei magi, il 6 gennaio, con un corteo in costume, canti e balli da tutto il mondo. Un programma ricco e presentato con largo anticipo per permettere agli oltre 500 alberghi aperti in città una migliore campagna di comunicazione. Rimini si veste a festa perché io credo che se lo meriti la comunità riminese, ma anche se lo meritano i tanti turisti sempre di più che vengono nel periodo natalizio e a Capodanno e io credo che troveranno un territorio assolutamente pronto ad accoglierli con alberghi che già oggi stanno avendo delle percentuali di riempimento molto molto importanti e questo ovviamente è tutta economia fondamentale per il nostro territorio. Finalmente abbiamo le informazioni in anticipo, quindi gli alberghi sono partiti subito con la campagna di informazione e che ha dato i suoi risultati perché vediamo comunque che abbiamo un 5% in più di prenotazioni rispetto all'anno scorso, ma siamo a un mese, a oltre un mese dall'evento. Abbiamo alberghi che sono già al completo, al 100%, soprattutto quelli che offrono la pensione completa con una media dei tre giorni e aumentano gli alberghi con le aperture straordinarie. Ma non solo aumentano gli alberghi, ma aumentano i giorni di apertura straordinaria. Oggi la città ci permette di fare questo salto di qualità. Lo sport fa bene anche al territorio. Ieri al Grand Hotel di Rimini è stato presentato uno studio sull'impatto turistico degli eventi sportivi in regione. Presente anche il Ministro per lo Sport a Bodi. Vediamo. Dibattiti, confronti e possibilità di nuovi progetti insieme a grandi personalità dello sport e del territorio. Questo è stato l'incontro di lunedì 20 novembre, dedicato allo sport e alla sua promozione in Emilia-Romagna, che ha avuto luogo al Grand Hotel di Rimini. Un'intera giornata di incontri per fare il punto sulla situazione delle attività sportive in regione, alla presenza tra gli altri del Ministro dello Sport Andrea Bodi e del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L'occasione è stata utile per snocciolare i dati della ricerca sull'indotto delle attività sportive regionali. Gli 81 eventi presi in esame e organizzati nel 2022 hanno generato circa 150 milioni di euro a fronte di un investimento della Regione di 8,3 milioni. L'evento ha consentito di fare il punto insieme a sindaci e presidenti di federazioni ed enti di promozione sportiva, operatori turistici e promotori privati sulle politiche di una Regione che ormai da decenni ha deciso di investire con decisione sullo sport. Tre numeri sostanzialmente da inquadrare, un investimento della Regione pari a oltre 8 milioni di euro, oltre 150 milioni di euro di restituzione complessiva per, e questo credo sia il numero che conta davvero, un moltiplicatore nel rapporto tra un euro investito e le ricadute pari a quasi 18 euro. Ci sono i termini per dire che si tratta di un lavoro strategico che sta dando benessere ai territori, che rappresenta una scelta di questi anni centrale dell'amministrazione regionale e in primis del presidente Bonaccini che sta configurando davvero a pieno l'Emilia-Romagna come Sport Valley italiana. Come bisogna coniugare bene il binomio tecnologia-sport secondo lei? Con l'alleanza tra tecnologia e sport. Cercare di non renderli alternativi, di non farli diventare concorrenti perché sarebbe un errore madornale in alcuni casi. La tecnologia applicata allo sport è una straordinaria serie di opportunità per comprendere lo sport, per aiutare lo sportivo, per coinvolgere maggiormente il pubblico, per facilitare le scelte in ambito sportivo, penso a tutte le scelte tecniche, per collegare comunque la dimensione sportiva anche al presidio sui temi della salute. Parliamo anche di basket. Parte dall'incidente di gioco occorso all'americano Justin Johnson, l'analisi di Riviera Banca, palacanestro Trieste, finita con la vittoria di Trieste per 81-62, l'analisi di Alessandro Simeoni, ospite ieri sera di Calcio.Basket. Il centro di RVR è fiducioso sulle possibilità della squadra biancorossa di uscire da questo momento delicato, con alle porte la difficile trasferta ad Udine di domenica prossima. Sono momenti probabilmente molto difficili, visti anche dal punto di vista di un giocatore, perché sono azioni in cui potresti essere tu al posto suo, hai un tuo compagno di squadra con cui condividi un sacco di cose, da intere giornate a momenti singoli e quindi una cosa del genere ti scuote sempre in maniera negativa e sicuramente il braccio alzato è stato un gesto di relax, di serenità che ci ha dato e abbiamo capito che comunque era conscio come hai detto te e ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Sono momenti in cui ti stringi e cerchi di andare oltre quello che è stato comunque il momento che sia importante, difficile, è un frangente che però va tenuto isolato dal resto della partita, nonostante comunque Justin per noi sia un giocatore importantissimo, abbiamo dovuto fare a meno di lui e abbiamo cercato di fare il nostro meglio nonostante mancasse. Capita purtroppo un inizio di stagione un po' particolare, come quello che ci stiamo trovando ad affrontare in questo momento. Io sono convinto che manchi veramente poco, una vittoria che possa aiutarci a sbloccarci, a trovare il giusto ritmo per iniziare a collezionarne tante altre, basta veramente un attimo. Voi invece come avete vissuto questo sciopero del tifo che è durato fino alle 18.33, quindi con la pausa di 20 minuti e mezzo di fatto non vi hanno abbandonato per troppi minuti di gioco effettivo, reale? Io penso che sia una cosa legittima, nel senso la voglia di dimostrare da parte di una curva importante come la nostra, la loro posizione, sicuramente a noi dispiace perché noi siamo professionisti, quando andiamo in campo ci mettiamo sempre il 100% che vada bene e che vada male e sicuramente un supporto come loro io penso di non averlo mai trovato in nessun'altra squadra in cui sono stato, ma anche il palazzetto a livello in generale, vedere le famiglie con i bimbi che cantano è una cosa che dà tanto stimolo, sicuramente non riuscire a incidere, ad essere riusciti a girare la stagione nel modo giusto in cui vorremmo fa ancora più male. E anche questa sera lo sport sarà protagonista nel nostro palinsesto, alle 20.35 l'appuntamento con Icaro Volley, tra gli ospiti di Stefano Ravaglia e Federica Pappacena, anche la preparatrice atletica dell'OMAG Federica Colabufalo. Poi alle 21.35 in diretta dallo studio di Bologna Basket On Air, tra gli ospiti di Alberto Bortolotti ci saranno l'ala pivò dell'Uni Euro Foroli Davide Pascolo e l'ala della sella Cento Daniele Toscano. Infine i motori alle 23 l'appuntamento con Speed di Stefano Casadio, in studio il giornalista Mario Donnini e Franco Nugnes di Motorsport.com. E questa era la nostra ultima notizia, grazie di essere stati con noi e buon proseguimento di serata.